Sì, noi auspichiamo ovviamente per l'uso degli apparecchi cellulari alla guida delle sanzioni molto severe, ma auspichiamo anche che le sanzioni siano immediate, perché non necessariamente di lungo periodo, ma nel momento in cui una pattuglia di una forza di polizia, sia statuale che locale, trova una persona nella condizione di essere sanzionato, quella sanzione deve essere immediata, quindi per 5, 6, 7 giorni non guidi più la macchina. Io credo che l'efficacia e soprattutto la immediatezza della sanzione potrebbe aiutare un popolo che non sempre ha un rapporto ordinario con il rispetto delle regole.